e ciao a tutti ragazzi è pronto in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing per titanic la nave la leggenda siamo arrivati al numero 102 e andiamo subito a vedere cosa dobbiamo costruire in questo nuovo numero andiamo subito a togliere la plastica e andiamo subito a vedere il fascicolo titanic la nave la leggenda numero 102 a nel prossimo numero riceveremo la piastra del base del base di supporto la piastra base del supporto eccola qua la piastra base dove alloggieremo praticamente penso entrambi i supporti e appoggieremo il nostro titanic adriatic l'ultima delle big for varie informazioni da leggere la triatic vista poppa la scuola della natura varie informazioni sul novecento e qui ragazzi andiamo a vedere il secondo supporto andiamo a montare questo secondo supporto da inserire eccolo qua e questo sarà il risultato finale andiamo quindi a vedere cosa c'è cosa abbiamo ricevuto in questo cartone ecco qua abbiamo ricevuto la base il supporto questo è completo non ci fanno inserire alcun tipo di jack di cavo jack qua c'è il secondo cavo che dovremmo andare a mettere nella base del primo supporto che abbiamo ricevuto e andiamo a vedere cosa ci stanno in queste buste oltre alle viti appi ragazzi oppila c'erano le altre vite andiamo a prenderle tutte speriamo che non se ne sono saltate a vedere se le ho prese tutte va bene andiamo a mettere nel cartone visto che non si sono saltate ok ora lo ho aperto 1 2 3 4 e 5 sono 1 2 3 4 e 5 ok sennò giuste si andiamo a vedere cosa c'è in quest'altro numero quest'altra busta ok ragazzi e c'è il basamento della chiusura dell'altro dell'altro sopporto eccolo qua ok adesso vado a fare un po' di pulizia sul tavolo e iniziamo a montare il fascicolo ciao